Una dodicesima udienza che con le voci dei amici più cari ha raccontato Samuel Cuffaro, vittima a soli 19 anni dell'esplosione dell'azienda Green Genetics Greenvest che produceva Cannabis Light, avvenuta il 7 maggio 2021. Condividevamo sogni e passioni, ha detto Martino Tordoni. Samuel amava lo skateboard e i viaggi, ma soprattutto scrivere testi musicali. Passione, questa sottolineata anche da Lorenzo Poli, che nel momento in cui ha preso la notizia della tragedia, si trovava proprio nel centro musicale che avevano allestito insieme. In quelle settimane, racconta, doveva uscire anche un brano a cui Samuel stava lavorando e che hanno invece pubblicato gli amici successivamente. Nessuno dei due testimoni era però informato sull'attività lavorativa di Samuel, i cui amici sapevano soltanto che si trovava bene. L'ultimo testimone di parte civile sarà ascoltato nella prossima udienza. Abbiamo sentito tutti i testimoni dell'accusa e alla prossima udienza del 26 settembre sarà effettuato l'esame degli imputati, nel senso che chi dei cinque imputati consentirà la propria audizione verrà esaminato dinanzi alla Corte di Assise. 6 le udienze programmate con l'ultima fissata al 19 dicembre per ascoltare i testimoni delle difese degli imputati e per poi emettere la sentenza che definirà il giudizio di primo grado.